Gimp è morto! Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex e nel video di oggi vedremo cosa sta succedendo online. Condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica Gimp, link in descrizione per il download e vedete che abbiamo la miniatura del video. Allora, perché questo video ragazzi? Video veloce ma volevo fare chiarezza perché non so se siete incappati in qualche post di qualche forum o in qualche video di qualche canale, anche molto più importante del mio, anche di canali internazionali, nella quale si dice che Gimp sta lentamente morendo se non addirittura già virtualmente morto. Questo perché vedremo le principali cause, cioè le principali motivazioni che loro adducono ovviamente per affermare questa cosa e vedremo e alla fine vi dirò anche cosa ne penso io, quindi ovviamente guardate il video fino alla fine. Allora, perché queste persone sostengono questa cosa, cioè che Gimp sta lentamente morendo? Allora, una delle principali cause che vengono descritte in questi post che io ho visto online è ovviamente che Gimp è, lo vediamo qua, è un software ovviamente open source, è un software ovviamente nella quale non vengono pagati gli sviluppatori come possono essere ovviamente altri programmi tipo Photoshop e quindi ovviamente i rilasci sono molto molto lenti nel tempo in un mondo ovviamente che invece va molto veloce. Se noi andiamo alla pagina di download di Gimp, delle vecchie versioni, vedete che adesso siamo ovviamente alla 10, l'ultima è la 2.10.34, vedete che la versione, questi sono tutti aggiornamenti della versione 2.10, che vedete che è uscita praticamente dalla versione 2.10 tre anni fa, quindi la versione 2.8 era precedente, questi sono tutti aggiornamenti, alcuni dei quali ovviamente importanti, però comunque facendo parte della stessa versione, e calcolate che già da qua si iniziava a parlare della versione 3 di Gimp, che ovviamente è questa, che adesso in fase di sviluppo, vedete la 2.10.14, io ho fatto tra l'altro un video, potete scaricarvi la versione beta, andarla a provare, ho fatto un video, ve lo lascio qui in alto in descrizione, che sarà forse una vera rivoluzione rispetto a prima, perché ovviamente introdurrà alcune features più simili a Photoshop, come ovviamente gli oggetti intelligenti ad esempio, e le modifiche intralivello, quindi sicuramente sarà un aggiornamento, un avversione, un rilascio molto molto importante, ma il problema è che non sappiamo quando verrà rilasciato, già doveva essere rilasciato, avevano detto a fine 2021, nel 2022 così non è stato, adesso siamo già ad aprile del 2023, quindi come vedete lento 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 rilascio. Si parla anche di sempre meno sviluppatori, sapete che ovviamente è una comunità di sviluppatori, che ovviamente produce questi aggiornamenti, quindi queste features, e ovviamente si parla, ovviamente in mancanza di sonvezioni, cioè Gimp fa fatica a trovare sponsor, e quindi veramente è rilasciato un po' al buon cuore il fatto appunto dello sviluppo di questo programma. Altri programmi open source riescono ad avere importanti sovvenzioni, se mi serve ad esempio a Blender, che è un software potentissimo di grafica 3D open source, che ha avuto sovvenzioni importanti da parte di alcune software house, e invece Gimp sembra che faccia più fatica, nonostante sia molto molto diffuso. Altra motivazione ragazzi è quella dell'intelligenza artificiale, vado veloce perché ovviamente voglio essere rapido nello spiegarvi le principali motivazioni e poi nel dirvi cosa ne penso. L'altra motivazione, come vi dicevo, è quella dell'intelligenza artificiale. Abbiamo visto e ho fatto un video, nel quale spiego già le possibili interazioni tra intelligenza artificiale e Gimp, sapete che esistono, ovviamente stanno uscendo sempre di più con l'esplosione nell'ultimo anno dell'intelligenza artificiale, di ovviamente siti nella quale voi potete, tipo dal in, potete ovviamente scrivere un testo e lui ve lo traduce in immagine anche in alta definizione, ad esempio vedete rendering 3D simpatico pesce tropicale in un acquario su sfondo blu scuro arte digitale e lui vi crea questo, ok? E così tutto il resto, vi ho fatto un video nel quale facciamo proprio degli esempi insieme. Oppure anche Midjourney, Midjourney è un canale discord, nel quale voi potete andare, stessa cosa, andate a scrivere una descrizione e lui vi creerà un'immagine in alta definizione. Ma perché, ragazzi, loro dicono che Gimp si è un reddito? Perché ovviamente stanno rendendo più semplice la creazione dell'immagine, quindi creazioni veloci per content creator, no? Quindi non c'è più bisogno di stare a studiare, stare a sudare, a studiare su questi programmi, ma abbiamo delle applicazioni che in maniera molto veloce e anche di buona qualità creano dei contenuti. E una delle, sempre storicamente, una degli aspetti più critici, una delle principali critiche mosse verso Gimp è stato quello di avere una barriera all'entrata abbastanza alta, cioè di non essere così di immediata comprensione. E quindi ovviamente tutto questo, unito al lento rilascio e al lento adeguamento che Gimp riesce a fare, anzi non riesce a fare, ovviamente perché ci sono pochi sviluppatori e sono fondamentalmente volontari o comunque che si basano su sovvenzioni che sono difficilmente, e Gimp fa fatica a reperire, Tutto questo fa sì che il futuro di Gimp, secondo queste persone, non sia assolutamente roseo. Cosa ne penso io? Allora, io penso che assolutamente Gimp non sia morto, anzi. Questo perché? Perché è vero che Gimp rilascia in maniera molto lenta, come abbiamo visto, gli aggiornamenti o comunque le nuove versioni, e questo è ovvio. Sappiamo che Photoshop ovviamente fa pagare degli abbonamenti, è un programma ovviamente più professionale, cioè è lo standard professionale, mentre Gimp è l'alternativa open source che fa l'80% di quello che ovviamente fa Photoshop e che per l'80% però delle persone che non lo utilizzano per uso professionale va benissimo, quindi la diffusione di Gimp secondo me sarà sempre molto molto elevata. È chiaro che chi vorrà utilizzare un programma professionale molto probabilmente andrà su Photoshop perché è lo standard, perché avrà aggiornamenti e supporto continui, questo è chiaro. Ma, d'altro canto, Gimp, tutte le persone che si vogliono avvicinare a questo mondo, il mondo del photo editing, anche prima di Photoshop, anche se in maniera professionale, prima di acquistare magari un programma tipo Photoshop, io gli consiglierei di usare, di imparare a utilizzare Gimp perché possono capire se questo mondo può fare il caso loro e comunque imparando Gimp si impara comunque tutta la base del photo editing che si ritrova praticamente pari pari su Photoshop. Dopo poi si può andare a imparare le varie features e l'interfaccia del programma professionale, se si vuole. Oltretutto, il discorso dell'intelligenza artificiale, ragazzi, non potrà, secondo me, mai sostituire, e vado sul sito di Dalì, non potrà mai sostituire interamente Gimp perché se è vero che questi siti ti permettono di creare contenuti veloci e di buona qualità partendo da un testo, d'altro canto non potranno mai creare quello che noi abbiamo in testa. Se noi abbiamo un'immagine specifica, un effetto specifico che vogliamo creare e proviamo a farla fare l'intelligenza artificiale, non ce lo creerà mai come noi lo abbiamo in testa perché non siamo noi a farlo. Mentre con Gimp, che è un programma ovviamente di grafica artistica, ci permette tramite le sue funzionalità e strumenti di fare, di creare proprio ciò che noi vogliamo, come lo abbiamo in testa e lo possiamo creare. Quindi, quello che io prevedo sarà un'integrazione, quindi di features di attività, di intelligenza artificiale all'interno di Gimp oppure di compendio, come vi ho fatto vedere, cioè magari di creazione veloce di contenuto su intelligenza artificiale per poi portarlo in Gimp e trasformarlo come noi vogliamo. Per quanto riguarda ovviamente la barriera all'entrata, ragazzi, quindi il fatto che Gimp non sia di così facile, diciamo, non è così intuitivo per chi ovviamente vuole entrare a conoscere questo programma, beh, per quello, ragazzi, ci sono ovviamente i canali tipo il mio, mi avete sempre detto che comunque spiego, diciamo, le cose in maniera abbastanza semplice, quindi bisogna ovviamente fare riferimento sia al manuale, ma sia soprattutto a canali, a tutorial tipo quelli che trovate nel mio canale, quindi vi invito ovviamente a iscrivervi e ad imparare questo programma tramite i miei video, ma potete stare certi che finché ci saranno canali tipo il mio, Gimp continuerà a diffondersi più o meno lentamente, ma sicuramente non morirà mai. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché, come vi dicevo, nei prossimi mesi ne vedrete delle pelle su questo canale, venitemi a trovare anche sul mio profilo Instagram, vero__arone__academy, e noi, come sempre, ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti!